Buongiorno a tutti, sono Luciana Tixi della Società Alfa. Come ha detto Monica, la Società Alfa e la Società Le Reti gestiscono il servizio idrico della provincia di Varese. Già il nome del progetto che stiamo appunto portando avanti, CD4 Nature, introduce l'ambito territoriale di pertinenza che è l'areale sotteso al parco regionale Campo dei Fiori e il significato dei case studying diventa proprio Campo dei Fiori per la natura. Contestualizzando a livello geografico, la provincia di Varese per sua natura morfologica è costellata da incantevoli paesaggi lacustri e acquatici in posizione centrale. Nella parte a nord invece da paesaggi più montuosi, nella parte invece a sud paesaggi più pianeggianti. In posizione più o meno intermedia dell'areale della provincia di Varese si colloca un'area che per le sue caratteristiche morfologiche, faunistiche e floristiche assume un alto valore ecosistemico. Quest'area dal 1984 è stata designata da Regione Lombardia quale parco regionale Campo dei Fiori. Purtroppo quest'area è stata oggetto nei diversi anni da numerosi eventi calamitosi che ne hanno messo in pericolo i propri servizi ecosistemici. Qui all'interno di questo progetto il servizio ecosistemico che andiamo a studiare è il servizio ecosistemico acqua. Acqua quale capitale naturale da proteggere. Le foto, due foto a lato, rappresentano un esempio di protezione della fonte che infatti è all'interno di una sorgente e invece un esempio di equilibrio tra area boschiva, area sorgiva e intervento antropico che è il casello di presa. Il contesto territoriale in cui si sviluppa il progetto è un contesto prevalentemente montuoso dove le caratteristiche essenziali è la natura carsica proprio dei massicci presenti all'interno. Una natura carsica che è sì un pregio ma ne evidenzia l'allevata vulnerabilità. Abbiamo detto area Parco dei Fiori con elevati pregi ambientali tant'è vero che quest'area è innoverata nella rete dei siti Natura 2000. Al suo interno sono presenti cinque zone di conservazione speciale tra cui le grotte del Campo dei Fiori che sono i propri serbatoi naturali stoccaggi di acqua potabile. In questo studio sono stati rilevati 114 punti di captazione idrica. Le foto a lato rappresentano purtroppo le conseguenze di un dissesto franoso notevoli quantità di materiale detritico e fangoso si sono riversate in area sorgiva mettendo a rischio proprio la qualità stessa dell'acqua potabile. La foto sotto rappresenta la stessa area post interventi di bonifica. I punti di forza di questo progetto come ha detto già Monica è l'accordo di partenariato tra l'ente Parco Campo dei Fiori che è il promotore del progetto e le due società Alfa e Le Retti gestori della risorsa idrica EV presente. La mappatura delle risorse idriche precisa l'individuazione delle zone di salvaguardia delle aree di captazione e gli interventi sia di natura ingegneristica che interventi basati sulla natura proprio a protezione della risorsa. Alla fine lo studio di fattibilità PES con l'internalizzazione dei costi ambientali della risorsa in tariffa idrica. Il progetto si sviluppa in due macro parti la prima parte più prettamente tecnico-geologica che sviluppa in quattro fasi che sono state tutte svolte. La seconda parte prevede l'approccio ecosistemico della risorsa idrica che è ancora in fase di sviluppo. Rapidamente faccio scorrere le slide per descrivere le fasi che sono state appunto svolte. La prima fase è l'aggiornamento e caratterizzazione delle risorse idriche che ha previsto una prima organizzazione della documentazione partendo dai PGT comunali rilievi ad hoc sulle opere stesse. I risultati di questa prima fase sono state la mappatura delle risorse e soprattutto la corretta ubicazione dei punti di captazione perché ricordiamoci che siamo in zona montana quindi è abbastanza complicato molte volte identificare esattamente la posizione di una captazione sorgiva. La slide seguente ad esempio mostra un esempio di difformità tra quanto è riportato nei PGT comunali sono le goccioline azzurre e invece il rilievo da sorgenti che sono le goccioline rosse. Questo impatta soprattutto la ridefinizione delle aree di salvaguardia e quindi delle zone da attenzionare. La seconda fase è riguardata proprio la ridefinizione della zona di salvaguardia dividendo in zona di tutta l'assoluta rispetto e protezione come vuole il testo unico della 152. Si è quindi riprimetrate le aree non più basandosi con criteri geometrici ma con livelli idrogeologici. Questa slide mostra soprattutto la zona di protezione che è stata una zona molto importante e il versante sud del Masticcio Campo dei Fiori che è una zona altamente carsica qui l'area è stata divisa addirittura in zona di protezione A zona di protezione B allargando i criteri di vulnerabilità. La terza fase ha riguardato proprio la redazione delle carte della vulnerabilità la ricognizione dei centri di pericolo e il tutto è stato affiancato da una campagna idrochimica sull'acqua grezza. Questo perché al fine di avere una corretta analisi del rischio per la qualità delle acque e per gli ecosistemi che sono contenuti nell'area protetta Campo dei Fiori. Arriviamo quindi alla quarta fase che si è potuta sviluppare grazie proprio ai risultati delle tre fasi precedenti quindi mappatura delle risorse di limitazione della salvaguardia e mappatura dei centri di pericolo per una lista di interventi sia interventi per salvaguardare e mitigare il rischio idrogeologico dell'acqua e del territorio. Interventi che sono stati sia di natura ingegneristica e ambientale sia a carattere proprio forestale. L'obiettivo di questi interventi è stato tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica ma anche a generare co-benefici all'ecosistema stesso. La quinta fase che sarebbe la seconda parte del progetto che è in via di sviluppo riguarda l'approccio ecosistemico della risorsa idrica e lo sviluppo dei PES. Questo per introdurre il paradigma del passaggio tra gestori della risorsa idrica potabile e gestori del territorio da cui la risorsa idrica trae origine proprio. Quindi prendendo gli interventi della quarta fase si cercheranno di classificare come posti ambientali e della risorsa con l'obiettivo di internalizzare questi interventi e farsi che ci sia una gestione sempre più circolare tra gestione della risorsa idrica degli enti gestori e gestione dell'ambiente da cui le acque sorgive ne traguono proprio alimentazione. Grazie a tutti. Ottimo, grazie.